Per celebrare la festa della mamma, Universo Humanitas ha deciso di organizzare una missione di solidarietà presso la casa circondariale Antonio Caputo di Salerno. I volontari prepareranno un pranzo speciale per le mamme detenute e i loro figli, che per l'occasione verranno a trovarle. Già questa mattina il presidente di Universo Humanitas, Roberto Schiavone Favignana, insieme ad un ospite d'eccezione, la scrittrice attivista per i diritti umani, Claudia Conte, erano pronti alla loro missione di solidarietà. Andiamo alla casa circondariale di Salerno e festeggeremo la festa della mamma con le detenute e con i loro bambini che li faranno entrare nella casa circondariale e pranzeremo tutti insieme, lì insieme alle mamme, una giornata speciale. Perché dobbiamo ricordarci che la funzione rieducativa della pena, ecco tutti merita una seconda possibilità ed è importante anche il sottegno degli entri del terzo settore, il lavoro incognabile in questo caso dell'Universo Humanitas, anche per dare nuove speranze, nuove prospettive. Così quando usciranno dal carcere renderanno un percorso di vita diverso, affrontato sulla legalità, sull'impegno, nel sociale, chissà, magari diventeranno volontari di Humanitas. Buona festa della mamma e auguri a tutte le mamme.